Ciao a tutti sono Nese e oggi volevo fare un velocissimissimo video su queste due. Questa non è una blind bag ma l'ho trovata al supermercato e l'ho trovata troppo carina visto che mi piace tantissimo Applejack e questa è una della sua famiglia e questa nuova blind bag della Marvel e quindi non so, volevo provarle. Allora direi di iniziare aprendo questa qui e poi vi faccio vedere com'è lei da fuori la scatola. Allora, vediamo subito chi abbiamo trovato. Eccola qui! Allora, questo dovrebbe essere Ultron. Allora, qua c'è la checklist e ci sono tutti i vari tipi. Ecco, questo è il nostro. Quindi questi abbiamo... sono tutti fantastici veramente, sono fatti molto bene. E c'è anche questa versione qui e questo. E veniva con questa basettina. Quindi eccolo qui. Metallizzato e celeste trasparente. Molto carino. E ora apro lei e arrivo subito. Eccola qui. È molto fosforescente, è molto carina. Ha questa codina qui. E poi il cappello si può togliere. È una cuffietta in realtà, come porta la nonna di Applejack. Eccola. E eccola qui, molto carina, con questa codina appunto. Scusate il macello delle macchine. E niente, eccola qua. Questa è stata una recensione molto molto breve. Spero che il video vi sia piaciuto. Solo per oggi sarà questa location molto all'aperto, diciamo. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Se vi è piaciuto mettete like, commentate e iscrivetevi al mio canale. E ci rivediamo prestissimissimissimo. Ciao!